Mare fuori tre, siamo qui con gli amatissimi protagonisti, quindi partiamo subito da Massimiliano Carmine avrà un atteggiamento completamente diverso rispetto alla stagione passata il grande ritorno di Ciro interpretato da Giacomo che rivedremo nei vari aspetti della sua vita precedente e poi Matteo con Edoardo che ha un po' preso il posto proprio di Ciro ed è diventato diciamo il capo dei ragazzacci Mette pace probabilmente perché ha la ricerca di una pace dentro di lui, io penso che il perdono non è mai una cosa che avviene così, è un processo, perdonandoti perdoni e perdonandoti perdoni e forse questo è il motivo per cui lui inizia a voler stare fuori da tutto questo, ci ha sempre voluto stare, però vuole stare ancora di più fuori perché sa che quello che succede lì so scaramucce in confronto a una verità di sentire che poi è quella che ti guida all'interno delle relazioni, quindi questo, prima ti devi perdonare, poi forse trovi lo spazio per amarti o forse è amandoti che ti perdoni, non lo so, tutte domande a cui ho cercato di rispondere in un processo, poi lo vedremo. Edoardo è invece dal lato opposto a Carmine che si inserisce sempre di più dentro quel contesto, però come Carmine non riesce a trovare la sua pace, però al contrario cerca la tempesta, mi viene in mente questa citazione, ribelle, cerca la tempesta perché solo lì trova la pace, però non riesce a trovare pace e quindi l'amore forse potrebbe essere una salvezza ma probabilmente in realtà è quello che gli incasina di più le cose. Il mio personaggio si è evoluto, ha seguito la sua impulsività, sta crescendo, sta maturando, sta capendo che probabilmente deve pensare prima di fare le cose e cerca di seguire le orme di Ciro ma non ci riesce, quindi sente la sua mancanza. Io Ciro nel passato, quindi più giovane, ve lo immagino come una luce bianca, un qualcosa di bianco che però, che era bianco e in determinati momenti per diversi fattori diventa nera, viene catturato dal nero. Sicuramente questo aspetto bianco, puro, pulito deriva dal lato femminile della sua famiglia, quindi dalla sorella, probabilmente da una madre, però un Ciro giovane è sicuramente molto diverso dal Ciro che abbiamo visto in galera. Ma questa è anche la stagione della crescita e soprattutto la stagione dell'amore e quindi parlando d'amore, Valentina e Nicolà, i vostri Nadizza e Filippo che sono in fuga e poi Artem con Cupra, quindi raccontateci un po' anche quello che succede per quello che si può raccontare a voi. Diciamo che Nadizza la troveremo sicuramente più innamorata che mai e forte di questo amore che la porterà anche a fare, diciamo, delle scelte molto importanti, come sempre rimane una delle caratteristiche principali del personaggio e l'amore verso la vita, il bisogno di sentirsi libera e l'amore verso Filippo, verso la musica, verso i sogni, verso questa sua grande esigenza di rincorrere i propri sogni. Però in questa stagione l'amore sarà anche in grado di fare luce su tante cose di cui Nadizza fino ad oggi non si era soffermata e di cui non si era resa conto. Quindi in un certo senso l'amore qui diventa anche maestro, guida e questo. L'amore è importante perché, dico per Filippo, in generale comunque capisce che non è un sentimento a senso unico, quindi diciamo che coinvolge sempre qualcun altro e nel momento in cui qualcun altro è coinvolto nel tuo scelto, comunque nel tuo circondario, ecco, fare una scelta diventa difficile appunto perché non siamo da soli, quindi bisogna anche tener conto sempre di chi ci troviamo davanti, che sia un'amicizia o una relazione come dire sentimentale o comunque che coinvolge l'amore come quello per Nadizza. Sarà sicuramente appunto un elemento fondamentale necessario in questa stagione per i nostri personaggi, per il percorso di crescita che hanno fatto e l'amore ancora una volta sarà un grande motivo di scoperta nella vita di tutti quanti, quindi viva l'amore, viva i nostri personaggi e chissà. Pino, 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 Pino da quando ha conosciuto l'amore ha visto un altro mondo, cioè secondo me per Pino, da quello che ho provato io interpretando Pino, è stata una forma di rifugio dal mondo, è un mondo a sé quello che si crea tra due persone, quindi è un mondo tutto suo in cui lui si sentiva forse magari protetto, amato e magari accudito da cubra, quindi è fantastico perché Pino non ha mai avuto l'amore, ma lo cercava, lo voleva conoscere, ed è meraviglioso perché c'è una crescita, c'è una crescita personale, c'è un maturo il personaggio, si vede che c'è un processo di cambiamento, c'è un'evoluzione ed è tutto bello, è tutto bello ed è tutto giusto, quindi è fantastico. E allora grazie, Mare fuori 3 dal 1 febbraio su Replay e dal 15 su Rai 2. Grazie. Grazie.